a facoltà. Grazie Presidente, colleghi senatori. Ho dieci minuti di tempo, ma forse ne impiegherò meno, per motivare il voto convintamente favorevole della Lega Salvini Premier alla mozione in discussione che intende impegnare il Governo a potenziare in diversi ambiti l'insegnamento e la conoscenza matematico-scientifica. Ebbene, colleghi, che questo potenziamento sia necessario e indispensabile per i nostri giovani, per le nostre imprese, per i nostri cittadini, per essere preparati e competitivi, nonché cittadini attivi in una società in cui l'approccio tecnico, scientifico e digitale è e sarà sempre più indispensabile per poter essere preparati all'altezza di importanti sfide e autonomi nel modo di gestire anche la nostra quotidianità? Ebbene, dicevo, questo ormai lo abbiamo capito e detto e lo stiamo forse ripetendo ormai quasi allo sfinimento. Quello che forse non abbiamo detto abbastanza e che ritengo invece si debba dire è che noi abbiamo una grande responsabilità, la responsabilità di non interrompere quel processo di evoluzione culturale e scientifica alla cui base, dall'origine dei tempi, sta la matematica. Ce lo insegna Pitagora, che quasi 3.000 anni fa ha posto le basi, possiamo dirlo, del pensiero scientifico moderno e della filosofia, filosofia intesa come amore per la sapienza, che va a Bramine, che non a caso derivava da mazzema, scienza, che a sua volta deriva dal verbo manzano, manzano, imparare e da qui i matematare e da qui i matematicos, vale a dire gli inclini a conoscere. Fu lui Pitagora a scoprire quelle relazioni matematiche che sono alla base della musica, dell'arte, di quelle proporzioni che dettarono e dettano tuttora la creazione di grandi opere architettoniche, per fare un esempio i tempi greci, piuttosto che gli spettacolari affreschi come la Cappella Sistina di Michelangelo che tutto il mondo ci invidia. Un affresco che deve alla sua bellezza la perfezione matematica con cui fu studiato e realizzato. Uno studio dettagliato avrebbe infatti dimostrato che il vero segreto della portentosa armonia tra le parti che rende così bilanciati ed equilibrati gli affreschi della Cappella Sistina è in realtà l'uso sistematico e voluto della cosiddetta sezione aurea che possiamo forse definire quel miracolo di proporzioni fra le parti che è insito nella natura stessa e che gli studi matematici hanno permesso di scoprire e quindi di applicare alle creazioni dell'uomo con i risultati di una magnificenza unica. Che dire poi di Leonardo, del suo genio, dai suoi scritti, dalle sue sperimentazioni, dalle sue opere e dai suoi dipinti è evidente quanto Leonardo abbia nutrito per i numeri e il calcolo un particolare interesse ritenendo che dietro i numeri vi sia la possibilità di creare strade nuove ancora sconosciute che siano in grado di portare la conoscenza dell'uomo verso una più ampia profondità. E ritornando a Pitagora non dimentichiamo la scoperta della scala musicale anch'essa basata su proporzioni matematiche e a sua volta base delle composizioni musicali dei musicisti di ogni tempo. Il legame tra il linguaggio musicale i principi matematici sono indissolubili e per questo nella storia dell'uomo la matematica e la musica le troviamo spesse unite indissolubilmente. Ma non solo. Nell'anno di Dante non possiamo non ricordare quanto l'opera che lo ha reso celebre sia legata ai numeri e alle leggi matematiche nelle sue proporzioni. Le tre cantiche formate da 33 canti con strofe di tre versi le cosiddette versine sono solo un esempio di come la matematica abbia condotto e ordinato la sua opera letteraria. Si potrebbero fare tanti altri esempi a dimostrazione di quanto la matematica sia legata a ogni aspetto della vita dell'arte della quotidianità e delle nostre attività anche quelle sportive in cui le regole e i campi da gioco siano essi grandi o piccoli sono realizzati e studiati in base a precise proporzioni e leggi matematiche. Ieri sera cari colleghi sono andata a riguardarmi quel bellissimo e attuale cortometraggio che la Disney ideò nel 1959 dove il simpatico personaggio di Paperino fa un viaggio attraverso il mondo della mate magica un mondo in cui Paperino entra con il fucile ma grazie allo spirito di avventura che lo accompagna scopre quanto è meraviglioso e sorprendente e conclude il suo viaggio cercando di aprire con curiosità una serie di porte le porte del sapere delle possibilità che può offrire il futuro Felice Paperino conclude che solo la matematica ha le chiavi per aprirle perdonatemi questa visione romantica sulla matematica ma sono fermamente convinta che dobbiamo smettere di dire e di dirci che non siamo portati per la matematica scusando con questa frase la nostra pigrizia ad applicarci a una materia che come abbiamo visto è indispensabile ed è alla base di ogni nostro sapere di ogni oggetto che usiamo nella quotidianità di ogni spazio come quello di quest'aula studiata e organizzata secondo precise proporzioni geometriche e matematiche per questi motivi abbiamo la responsabilità di continuare a coltivare e valorizzare il sapere matematico scientifico che dall'inizio dell'umanità sta alla base di tutto e ci è stato tramandato dagli studiosi e degli artisti di ogni tempo e che non può essere slegato dagli altri saperi possono essere diverse da quelle di una volta le metodologie con cui si applica la matematica oggi il nostro strumento è il digitale e sempre più diventa indispensabile prenderne coscienza e acquisire quelle conoscenze indispensabili per il suo corretto utilizzo benvengano quindi per questo i licei STEM scienze tecnologie ingegnerie matematiche e ancora meglio i licei STEM che aggiungono anche l'arte per formare i nostri giovani e benvengano adeguate formazioni ancora meglio se obbligatorie per i docenti io vorrei fare mi permetto un piccolo inciso dicendo che sono molto orgogliosa del fatto che nella mia città nel prossimo anno scolastico verrà inaugurato un liceo STEM in un istituto paritario io di questo sono molto orgogliosa e spero veramente che qualche componente del governo dell'istruzione possa essere presente con tutto questo voglio infine ribadire e confermare convintamente il voto favorevole alla mozione in oggetto del gruppo Lega Salvini Premier Grazie Presidente Grazie